La Lega sono io, perché senza il lavoro per i nostri, come possiamo pensare di accogliere nuovi immigrati? Noi non siamo contrari all'immigrazione, ma a questo tipo di immigrazione, perché l'immigrazione prevede certamente il lavoro. Se il lavoro non c'è, come possiamo accettare questa immigrazione? La Lega sono io, perché con le nostre tasse bisogna aiutare prima di tutto i disoccupati e i lavoratori italiani, non altri.